da un canyon sacro da un canyon sacro che dove veniva celebrato il passaggio della morte alla vita dove si adorava la diamante un canyon sacro non ne vedremo di canyon sacro proprio oggi Oscar? no? fai finta, butta ok dunque così giro se vuoi questa viene da? la Dea è da Carmignano però è sotto un albero di fico questa fico su nominalis e sotto c'è un despacho ok despacho lei va tranquilla magari gli altri non sanno cosa è il despacho questa viene da Sottomarina e del che zona? e Sottomarina Diga o? no no cintrale una nuova e viene dal mio vaso fuori grande e non c'è niente però è vuoto solo tema quindi molto vicino al predestino nel mio ufficio che è stato la maggior parte del tempo del giornato e le ore che passo e dov'è? l'ufficio? vicino a casa sua quindi sempre Sottomarina quindi sempre Sottomarina sì 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 e questo è il mio giardino che passo 4-5 mesi a sistemarlo faccio il giardiniere degli altri mesi e l'altro si riposare esatto fantastico ecco quindi abbiamo la terra vuoi l'epanto? sì lo fa Micol quindi creta abbiamo creta Sassilia abbiamo due connessioni con la Grecia il litorale veneto abbiamo Lepanto adesso, fantastico, è stata una delle vacanze più belle della mia vita, quindi abbiamo anche la felicità, con me, mescoliamo, anche la compagnia c'entrava, fantastico, grazie mille. Bene, una volta che si raccoglievano le taglie di tutte le persone che si raccoglievano per la nuova fondazione della nuova città, si univano anche delle offerte, quindi del cibo, e dopodiché si metteva una pietra sopra. Ma non nel senso, ci mettiamo una pietra sopra e basta, no, anzi, si ricordava, due volte all'anno, quattro volte all'anno, si apriva, si permetteva di soffiare con ora, che creava questo pilastro, questo sé, cogliato con un grande asse cosmico, che punta.